buonasera a tutti eccomi come promesso con l'analisi della mappa celeste di questa luna nuova che cade questa notte alle 6 45 domani mattina primo febbraio questa è la mappa tropicale sulla sinistra i transiti sulla destra vediamo che la luna nuova quindi la congiunzione luna sole a 12 gradi cade nel segno dell'acquario quindi vediamo un po anche gli altri aspetti di questo tema astrale vediamo un saturno congiunto a tre gradi alla luna nuova abbiamo il nostro solito urano che ancora per qualche anno ci darà del filo da torcere in toro ok un urano che come vedete quadra la luna nuova e quadra saturno ed è in trigono a venere e a marte questa è anche la prima luna nuova che accade con il nodo nord nord in toro il nodo nord è stato per diversi mesi in gemelli più o meno per tutta la durata di questa di questa situazione pandemica e di fatti ha caratterizzato comunque uno sconvolgimento in termini di informazione sicuramente sia in termini di raccolta di informazioni sia in termini di confusione e lì è stato anche significativo la posizione di nettuno nel 2020 e anche 2021 e anche 2022 adesso che ci spostiamo ci siamo spostati in toro sicuramente si apre un capitolo nuovo questa è una nuova è strettamente legata quindi ad urano un po per la sua posizione nel tema di questi mesi e soprattutto perché comunque urano è il governatore dell'acquario questo nodo ascendente come vedete è in congiunto a cerere che questo simbolino qua cerere un asteroide ed è ovviamente legato alla divinità romana cerere che era è la divinità della della fertilità popolare dell'agricoltura dei fiori dei frutti e colei che permetteva al popolo quindi è una divinità legata al popolo di raccogliere i frutti della terra cadendo in toro che esso stesso rappresenta un po la fertilità della terra per certi versi è sicuramente qualcosa da tenere in considerazione altri aspetti importanti che ho sottolineato appunto abbiamo la quadratura saturno urano urano luna e urano sole urano è intrigono a venere e intrigono anche se più largamente a marte abbiamo un sestile marte giove che sicuramente non potrà che amplificare delle azioni probabilmente anche un'aggressività di questo marte che cade in capricorno che è il segno delle leggi delle regole ok è anche il segno dello stato abbiamo una congiunzione importantissima di plutone con mercurio che anch'essa cade in capricorno quindi acquario e capricorno il segno dello stato capricorno e della riforma e anche della fratellanza dell'innovazione del futuro della libertà del risveglio l'acquario ma qui siamo ancora molto legati come vedete tutti questi pianeti veloci che cadono in capricorno cos'altro abbiamo abbiamo una posizione interessante che è plutone intrigono al nodo nord e in sestile al nodo sud che cade ovviamente in scorpione essendo il nodo nord in toro sono sempre opposti nodo nord e nodo sud e poi abbiamo una situazione particolare che vede un plutone di plutone molto presente in questa luna nuova e in generale in questi mesi un plutone che fa un quadrato a t con eris questo asteroide che vedete qua e haumea che una divinità hawaiiana allora eris eris divinità greca della discordia quella che ha che ha lanciato il pomo dorato no ad afrodite eccetera durante il matrimonio e che quindi ha creato questa discordia perché queste varie divinità si contendevano questo pomo dorato e anche con lei che lotta per per le ingiustizie lotta per portare giustizia nell'ingiusto è un quadrato a t molto attivo già da diversi mesi quindi ricordo che la quadratura è sempre una fase costruttiva a mea invece è anch'essa una divinità punta huaiana legata alla fertilità letteralmente lei crea il cibo ok peraltro nei prossimi mesi in questa quadratura ti prenderà più importanza più forza o mea andrà un pochino a perdere di energia eris abbiamo anch'issione missione è un personaggio sempre della mitologia greca che non è un personaggio molto simpatico ve lo faccio vedere eccolo qua è colui che poi viene punito messo a girare si nel cielo e a girare su questa ruota no da zeus in questa punizione eterna perché non traditore traditore non redento ecco questa è la caratteristica principale perché tradisce e ritradisce e ritradisce ancora andate a vedervi la sua storia io l'ho sottolineato perché in capricorno anche lui quindi questa posizione dove abbiamo un forte impulso di nuove regolamentazioni nuove leggi nuove ostacoli perché perché urano è ancora in lotta con saturno essendo in quadratura quindi da una parte abbiamo il desiderio di libertà che urano porta e questa luna nuova sicuramente avrà un impulso crescente verso questa libertà che credo potrebbe avere un un apice con l'equinozio di primavera che cade il 20 marzo alle 4 e 34 eccolo qua un equinozio di primavera sole a zero gradi dalla riete ok ma questo lo analizzeremo nel dettaglio in un altro momento è un equinozio che potrebbe veramente aprire l'equinozio segna sempre l'apertura la germinazione dell'uomo nuovo sia a livello personale ma ovviamente anche a livello globale comunitario torniamo alla mappa della luna nuova ovviamente è un po in tutto il mondo occidentale ma un po in tutto il mondo in generale viviamo dei momenti molto particolari oramai 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 tendiamo a dire da due anni a questa parte ma in realtà per chi era attento o sensibile sappiamo che un cambiamento è in atto da diversi decenni se non di più però abbiamo visto questa accelerazione no a marzo del 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 2020 un marzo del 2020 che peraltro noi in quella in quel periodo abbiamo visto proprio l'entrata di saturno in acquario mi sembra che fosse il 22 marzo 2020 e che quindi coinciso un po con il lockdown a livello globale no quantomeno in europa e negli stati occidentali saturno abbiamo detto è ancora in acquario ci starà ancora per un po è in quadratura ancora durano ci staranno ancora per un po ma questa luna nuova cadendo in acquario ed essendo la prima di questo nuovo ciclo dei nodi ascendenti discendenti e in toro sta sicuramente forzando anche spingendo verso un'apertura dopo una fase di raccolta di informazioni in gemelli noi qui abbiamo comincia a sedimentare no questa informazione che si è caotica oramai all'estremo perché potremmo aspettarci veramente anche dumbo che arriva dal cielo e ci dica qual è la verità delle cose ma queste informazioni ovviamente ci hanno permesso di metterci in gioco individualmente e come comunità quante comunità sono nate quante scuole di educazione parentale quanti sistemi economici di monete complementari erano in fase ideologica e adesso hanno trovato forza di mettersi in germinazione perché il toro è legato alla terra il toro è legato alla terra legato ai possedimenti legato ai desideri è legato agli averi quindi questo nodo nord peraltro ricordo congiunto a cerere che è la divinità della della terra degli frutti dei fiori per il popolo romano è un po la demetra greca con urano che vuole innovazione adesso diciamo che questa sfida tra questa parte di capricorno ancora è di saturno in acquario che sicuramente vuole controllare un po questa riforma ma in questo momento l'impulso io credo che sia ascendente verso una nuova rinascita che anche è rinascita legata all'archetipo acquariano urano è anche molto legato ovviamente alla tecnologia e quindi vediamo tutte queste discussioni sul metaverso sui microchip sul 5g è legato alla finanza e vediamo questo esplodere delle criptovalute i governi non è un segreto se andate a visitare i vari siti governativi trovate di tutto trovate che ogni stato sta conducendo il proprio esperimento in termini di criptovaluta e lo stesso green pass che quantomeno o super green pass o ultra green pass come l'ha chiamato il nostro ministro speranza ha nominato qualche mese fa ricordo l'ultra green pass forse non ha mai preso piede comunque appunto tutte informazioni che si trovano online legate a quello che queste questi enti sovra governativi stanno cercando di instaurare appunto in capricorno con queste nuove regolamentazioni noi abbiamo un nettuno in pesci un è un giove che è entrato in pesci da qualche tempo e che andrà a congiungersi a nettuno questa sia la mappa giusta il 12 aprile quindi questa è un'altra fase di impulso importante e che vedremo successivamente in un altro video quindi è una luna nuova che sicuramente dà in là un nuovo ciclo che porterà l'equinozio di primavera che porterà questa congiunzione giove nettuno che porterà a una potentissima congiunzione urano nodo nord marte che cadrà il primo agosto quindi siamo all'apice siamo all'apice perché perché siamo adesso c'è un forte impulso riformatore che porterà alla luce sicuramente diverse verità porterà la luce alla e alla germinazione diverse realtà che hanno trovato forza di sedimentare di osare qualcosa di nuovo appunto legata all'educazione al sistema dell'istruzione alla nuova realtà economica alle nuove comunità c'è chi ha lasciato tutto è andato in camper c'è chi ha lasciato è andato in un'altra comunità sugli appennini piuttosto che sulle alpi tante cose si stanno muovendo e adesso cominceranno a sedimentare appunto in toro giove nettuno in pesci ovviamente amplificano un processo di consapevolezza nettuno e lega è governatore dei pesci meno il governatore recente è una grande possibilità per ciascuno di noi e per ogni comunità di persone perché ci permette di canalizzare meglio quelle che sono le energie cosmiche di questo periodo adesso non entro nel dettaglio del nel del campo astronomico ma noi stiamo vivendo veramente un momento a livello energetico cosmico molto particolare dove possiamo davvero entrare in connessione con quello che è stato è e sarà in ciascuno di noi possiamo veramente trascendere la fisicità materica e fenomenica della nostra esperienza di vita nettuno è legato ai pesci governatore pesci sono legati alla dodicesima casa che non a caso comunque nel nostro tema europeo quantomeno italiano è in capricorno dove troviamo tutte quelle fatiche che vi ho detto prima ma nettuno ci può permettere di trascendere un pochino i desideri e possedimenti del toro per elevare l'archetipo toro a quello che è un suo stato superiore che è legato al concetto e alla realtà della religione perché il toro è anche legato nella croce nella croce cardinale dello zodiaco nella croce scusate fissa dello zodiaco è legato alla religione noi abbiamo la religione in toro abbiamo l'arte in leone abbiamo la scienza in scorpione e abbiamo l'uomo angelo in acquario questi sono i quattro punti della croce fissa che sono anche nominati in tutti i testi sia biblici canonici che testi antichi apocrifi o chi per loro insomma è legato all'evangelista luca perché la religione ha a che fare con i possedimenti con la fertilità e quei desideri perché perché attraverso la materia questa cosa la spiega molto bene la religione buddista attraverso la materia noi possiamo connetterci al macrocosmo quindi dal sperimentando il microcosmo che è diciamo è nascosto molto ben visibile a chi sa vedere dentro le maglie della chimica della biologia quindi appunto la terra no terra che fa germogliare attraverso il microcosmo noi scopriamo e riscopriamo il macrocosmo e viceversa come diceva giordano bruno e bene adesso prima di addentrarmi in un altro aspetto di cerere che vi faccio vedere eccola qua cerere una fresco del 1500 1600 paolo farinati eccolo qua verona prima di addentrarmi in cerere che ha questo aspetto sì di fertilità di culto popolare ma anche un aspetto molto interessante in questo momento nostro storico perché è legato anche al culto al mondo dei morti le cereris mundus questa fossa che veniva aperta in determinati momenti dell'anno nel popolo dal popolo romano e che permetteva la connessione col mondo dei morti interessante ma concludo questa prima parte di video e il resto lo troverete sul mio canale patreon previa sottoscrizione del meno diciamo il livello zero dicendo che appunto quale parte vogliamo scegliere in questo momento quindi questa che è ancora legata molto al controllo ok la parte 1 o la parte 2 legata sicuramente a questo ciclo di luna nuova che può portare può portare freschezza luminosità può già accogliere l'influsso di nettuno può già portarsi verso questa nuova germinazione dell'equinozio può portarsi a questa scesi religiosa quale parte vogliamo scegliere come individui e come comunità sta a noi e questa notte domani sono sicuramente giorni ideali per impiantare attraverso scritti attraverso pensieri attraverso la mente immaginativa attraverso delle pratiche personali attraverso appunto la manifestazione di pensieri e di buone intenzioni che ci accompagneranno per tutto questo ciclo di luna nuova che appunto durerà per tutto febbraio un caro saluto e invece un buon proseguio a chi mi seguirà su patreon e e e e e e e Grazie a tutti.